Piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più, mi manca da morire questo piccolo grande amore. Raccontaci qualcosa del tuo personaggio. Giulia è una ragazza che fa parte della cosiddetta Roma Bene degli anni 70, vive a Prati, quindi è circondata da le convenzioni borghesi dell'epoca. La sua vita è tutta casa, scuola, amici, inglese, insomma nient'altro, fino a quando poi incontra Andrea che è l'esatto opposto, che vive assecondando molto di più se stesso, con gli amici si gode la vita, insomma, e quindi si lascia stravolgere totalmente, è coinvolta profondamente, si innamora follemente, è come giusto che sia, poi a 17 anni, e quindi la sua vita cambia. Come ti sei trovata sul set? Benissimo, benissimissimo, perché poi conoscevo già Riccardo che ci ha girato Raccontami, quindi anche gran parte della troupe era già la stessa di Raccontami, quindi per me era casa, io ho lavorato con loro per un anno, la mattina mi alzavo, era come andare da mamma e papà praticamente, sono stata veramente bene. Qualcosa sul tuo futuro? Oddio, incrocio le dita intanto, per adesso mi prendo un attimo di respiro, non voglio fare le cose affrettate, quindi aspetto di vedere il film come va, se arriveranno proposte sarò contenta, le valuterò e poi vedrei. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.